Preghiera a San Marziano San Marziano, Vescovo e Martire, padrono della nostra amata città di Tortona, con fiducia ti affidiamo la corata preghiera che per il tuo tramite rivolgiamo a Dio, Padre onnipotente e misericordioso. Nascosto agli occhi del mondo per le poche notizie che abbiamo di te, ci ricordi che solo quando Dio vede è davvero importante. Prega per noi perché sappiamo vivere ogni nostra giornata alla presenza di Dio, attenti al suo sguardo, liberi dal giudizio degli uomini. Pastore, secondo il cuore del Signore, hai fondato la nostra diocesi portando in questa terra il dono inestimabile della fede. Prega per i nostri pastori e per tutti noi perché non ci stanchiamo di annunciare con gioia la salvezza di Cristo, morto e risorto.